Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. A causa di una frana chiusa la statale 12 della Betone del Brennero all'altezza del chilometro 73 in località San Marcello Piteglio. La statale 68 Val di Cecina è chiusa dal chilometro 23 al chilometro 25 a Montecatini Val di Cecina per un allagamento. Per un allagamento chiusa anche la 398 via Val di Cornia dal chilometro 24 al chilometro 23 a Monte Rotondo Marittimo. Chiudiamo con i treni. La circolazione è sospesa tra Siena e Badesse per verifiche tecniche a seguito di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!